bella a tutti ragazzi da sunpotantatracci qua su minecraft xbox one ragazzi incominciamo col bel tramonto abbiamo praticamente delle novità da farvi vedere innanzitutto qua ho già raccolto una volta anche due perché sono stato un sacchissimo off camera ragazzi come potete ben vedere guardate cosa sistemato no cosa sistemata allora innanzitutto andiamo a dormire e ci svegliamo ragazzi siamo al 200 episodio allora questo episodio ragazzi non farò un nulla di specialissimo perché vabbè purtroppo non ho tante risorse quella come potete vedere qui in basso a sinistra non ho il piccone vi spiego come mai e vi spiego cosa sto facendo sto praticamente ho cotto un sacco di ferro praticamente ho spaccato come sono fatto un praticamente per una notte intera tanto tanto mining ok ho fatto tantissimo mining ragazzi dovete vedere praticamente adesso vi faccio vedere cosa ho trovato spaccato tre piccone praticamente quindi i pochi diamanti che ho trovato gli usati sempre adesso siamo a 18 ma praticamente ne ho spaccati e ne avevo trovati di più ma gli usati tutti per fare in cartare nuovo piccone guardate cosa ho trovato tanto di più lontanto carbone guardate poi vabbè ciotoli siamo sempre lì perché intanto poi li buttavo pietra rossa vedete poi ragazzi in quantità industriale ho preso tantissimissimissimo ferro guardate quanto ferro a questo mi piace un sacco poi col poco legno che avevo ho creato tante crafting table perché così ragazzi ci siamo poi magazzino c'era qualcosa basta che ci giriamo tac e ce la facciamo e poi ragazzi ho sistemato tra l'altro vedete tutte le le cose qua finalmente sono stato un sacchissimo a farmare la pelle ma ce l'ho fatta ma non servivano tante me ne sono avanzate anche addirittura guardate dove l'ho messe qua mi parlo qui fatene ancora 42 avanzate quindi anche ora hanno trovato tanto molto bene per per fare le pepite per fare poi le carote d'oro e sono trovati solo ragazzi in mining solo di visione notturna qua ho messo a cuocere l'ultimo ferro che ci mancava dall'ultimo mining che avevo donato su perché avevo spaccato il piccone e adesso ragazzi finalmente abbiamo 35 livelli sapete cosa volevo fare volevo un attimino vedere cosa potevo incantare no allora intanto ci possiamo prendere ma sapete mi sono stufato del pane magari ce lo metto giù anzi no finiamo questo qua così lasciamo tre stack giusti acqua cotto tutta la carne e cotto tutto il pesce e quello crudo lo tengo per i delfini le patate se ci sono qua non so cosa c'è acqua ci mettono le patate crude carote ne ho ragazzi sono contento ma praticamente verrà la cosa in più quelle cose che non troverò più magari allora con la pelle che mi era avanzata abbiamo avanzati dieci cose di pelle o anzi momento andiamoci a craftare subito un piccone perché ci vuole quindi il prendo tutte le prendo tutte non so quanto che ce ne vanno ok così vedete che comodo basta che andiamo qui e ci facciamo un bel picconazzo perfetto riesco a fermi no perché 15 ragazzi qua la vedo dura è no me li tengo per gli strumenti per essere piccone i diamanti finché non ho finché non ho tutto resto resto così allora è che aspetto devo farmi sono dimenticato a fare e non li ho presi no sono qua mi voglio prendere i libri lapislazio ragazzi facciamo a tra l'altro messo potenza l'ho messo all'arco che lo è il nuovo arco numero due avevo qua un libro potenza 2 trovato in un tesoro mi pare in quelli sottomarini l'ho messo al coso all'arco visto che quindi allora libro lapislazio lo contraccolpo 1 protezione a progetti 2 risacca risacca 3 che cavolo e bu vabbè dai mettiamoci contraccolpo 1 perché non mi interessa ok vediamo qua cosa mi da protezione finita con l'acqua non mi interessa aspetto di fuoco 2 aspetto di fuoco due ragazzi ce lo metto la spada questo è poco ma sicuro tec a impatto 2 è però ma messo anche fra zero di troppo vabbè chi se ne frega e poi respirazione 2 finita con l'acqua filattezza 1 non mi interessa prendiamo questo ci facciamo tutti i libri ragazzi lezione dei proiettili atterraggio morbido 2 saccheggio 3 questo è buono è saccheggio 3 ragazzi questo è buono è questa me la prendo esca 3 saccheggio 3 potenza 4 ragazzi questo ci metto la spada è poi potenza efficienza 1 efficienza però ce la potrei mettere almeno il piccone che quello che uso di più vediamo un po non posso più metteranno no saccheggio una finita con l'acqua bo basta libri ragazzi potenziamoci quello che possiamo allora saccheggio esca potenza efficienza affilatezza aspetto di fuoco 2 va vediamo se ce la facciamo fare lo spadino ok io direi allora di metterci la spada allora piccone con efficienza ma solo uno perfetto e ci siamo poi la spada ci mettiamo affilatezza poi ci mettiamo aspetto di fuoco no dove saccheggio 3 questo qua tutta sta roba qua perfetto e poi ci mettiamo questa roba qua che c'è la faccia ragazzi che roba guardate che mega spada che ho è sempre 8 saccheggio aspetto di fuoco 2 perfetto mi piace mi piace però io ci darei una anche contrapolpo ci mettiamo ci buttiamo entro anche un contraccolpo e aspita o ho un livello ragazzi ho un livello e ma non me la fa aggiustare però neanche se volete non me la giustare neanche se volete vediamo spada di diamante è 17 e vabbè però però potrei chiamarla spadino spadino no spiedino dai è più bello spiedino anche questo qua era siccome avevo spiedino 2 oh è solo per cambiare il nome 16 ma sei fuori è solo cambiare il nome devo e vediamo eh no costa uno cambiare il nome come mai 16 vabbè ma lo tengo così dai non posso né ripararla né cosa comunque adesso fa già ma già più danno comunque finalmente ok quindi abbiamo fatto dei grandi libri che trattino consumati tutti bene bene ho trovato anche tanti lapislazuli guardate allora lapislazuli eccoli qua ok vedete qua guardate qua poi ho fatto già un raccolto delle verruche del nether e quindi ragazzi diciamo che è bene qua forse potevo fare un muro per non far vedere le casse in parte lo facciamo subito ragazzi da cavolo ecco ecco un momento che mi ero un pochettino mi ero un pochettino perso un momento sull'inventare mi girava la testa dunque via sta torcia facciamo un muretto tac ok così sì perché se l'ho fatto di là poi magari qua creeremo una specie di di recinto con password per entrare con passo non è vero cioè faremo qualcosa vediamo non lo so ok allora rimettiamo la torcia perché sicuro che sto angolo ci spa una qualcosa e c'è fatta di nuovo la notte andiamo a dormire ragazzi ah e poi tra l'altro mi sono dimenticato ancora una cosa da farvi vedere a proposito prendiamoci tutte le cose che ci abbiamo qua a cucinare quattro livelli non colpe uno stacco 4.000 da già 6 8 caspita sono già otto livelli ragazzi solo aver cotto tre stack di ferro è comodo questo infatti non vedo l'ora di poter fare riparazione o di trovarlo insomma guardate quanto è cavolo di ferro abbiamo molto 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 bene poi ho creatato anche dei secchi poi il minecart solo uno perché non avevo tanto ferro ma adesso ce l'ho quindi ragazzi adesso sinceramente sto pensando di fare una farm di ferro o no perché portare villager falle vabbè che villager ce li ho vicini e portarle qui e fare tutto l'ambaradam e tutto non so non so se conviene quanto conviene chi lo sa comunque è che non devo farle vero sempre lontano dalle porte dove essere 100 blocchi almeno lontano dalle porte sticcavo i cavalli qua allora due ce sono allora io ti apro tutte le porte però tu voi me ne dovete anche andare dal mio raccolto perché non va bene voi dovete stare un po via dai ok dai allora ti ti cavalco è ok l'ho cavalcato però adesso lui sta fermo lì ecco allora temagli non mi segue a lui vuole la carota vero ti è allora vuoi la carotina ti do una carotina venite fuori venite fuori dai dai che facile vabbè vedo spacca io questo dai vieni 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 qua 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 no ok è uscito è uscito no 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 venite fuori vente fuori vente fuori bravissimi fregati e mono entrate più è no scommettete che ho sbagliato no 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 va via di là va va via di lì ecco ti pareva se doveva entrare sto qua mannaggia il cavallo è no però è è no però è vabbè un po ma vediamo questo aspetto di fuoco sei funziona dai ok e se lo cavalco ok dai stai lì tu volevo solo provare la spada tieni no volevo darti la carota vabbè tu resti lì dai resta lì non so come cavolo fanno spawnare ah ok mi segui vieni 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 che mi segui vieni 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 qua senta che non ti faccio male che è quell'altro per spaccare il coso bravissimo uno due e tu ma non esci più non entri più vieni vieni qua vieni 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 qua vieni che ti aggiungo la mia collection vieni 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 caspita ragazzi non c'è più spazio fra un po' sono caduto no momento eh devo essere veloce prima che scappino tutti ok è scappato solo un pollo no un pollo è scappato una gallina dai dai che si cadi già da solo ok tu sei ritornato lì e tu te ne vai di nuovo in giù dai tuoi nuovi amici perfetto è scappata solo la pecoraccia che la buttiamo dentro anche lei di nuovo vedete che è facile ok qua dovrò fare un mini recinto qua ci farò anche qualcosa ragazzi quindi ragazzi è che possiamo finire qua adesso mi porto dentro questo cavallo vieni vieni dai eh non sta arrabbiati ok bravo vieni 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 che ti do la carotina vieni vieni vai vai no di là guarda qua la carota non lo vuoi oh caspita oh caspita dai vai vai ancora un po' vai ancora un po' perfetto anche tu ok ragazzi qua ci metterò un recinto e poi farò qualcosa e ve lo prometto eh ragazzi quindi se questo duecentesimo episodio fatto solo di incantesimi vi è piaciuto intanto mi bagno la carota pure io e l'uovo lo tiriamo in alto e lo prendiamo al volo no ragazzi ok non è spawnato non anche niente se questo episodio ragazzi vi è piaciuto mi invito a mettere mi piace a questo video iscrivetevi al canale se non avete fatto e noi ragazzi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti